L'ex compagna di Albano Carrisi si è fatta un selfie mentre era seduto sul lato guidatore durante una delle sue camminate in macchina Fino a qui nulla di eclatante e irregolare, ma diversi follower si sono accorti di un particolare molto importante, mentre altri non ci hanno fatto caso Ma di cosa si tratta? Nel prosiego dell'articolo troverete tutti i dettagli.Loredana Leciso non indossa a cintura di sicurezza Come si nota sullo scatto che ha postato sul suo profilo Instagram, Loredana Leciso era sopra la sua automobile senza indossare la cintura di sicurezza Come tutti ben sanno nel nostro paese è un obbligo metterla appena si sale in macchina, ma in tanti cercano di evitarla Per quale motivo? Guidare senza cintura ci si sente più liberi, ma e me è un'imprudenza bella e buona Da qualche anno a questa parte la stragrande maggioranza delle case automobilistiche hanno adottato un sistema che appena uno sale sul veicolo e si mette in modo, scatta una sirena per ricordati di indossare la cintura Tuttavia ci sono dei metodi per evitare questo suono, ovvero incastrarla sull'apposita fessura facendola passare dietro le spalle Punto l'ex di Albano Carrisi e il tenero video sulla sua famiglia.In questi ultimi mesi Loredana Leciso più volte si è immortalata in macchina senza cintura Anche se il veicolo era ferma, essendo un personaggio pubblico deve dare esempio, quindi doveva metterla ugualmente E a proposito di Instagram, alcune ore fa la subretta Salentina ha postato un video che le è stato inviato da una follower Nel filmato in questione, ci sono una serie di foto che la mostrano in compagnia dell'ex compagno Albano, ma anche con i suoi figli Jasmine e Bido Carrisi Nel filmato in questione, ci sono una serie di foto che la mostrano in compagnia dell'ex compagno